Mister, buon pomeriggio. C'è la sensazione tra Pontedera e Legnago di sognare una sorta di filotto? Sicuramente c'è sempre questa sensazione, senza nulla togliere alle altre squadre. È normale che poi a volte si incontrano squadre più o meno attrezzate, questo è chiaro. In questa settimana, con l'infrasettimanale, credo che sia una settimana un po' particolare per tutti, quindi la stanchezza, i viaggi, le rotazioni, però sicuramente giochiamo in casa. Veniamo da una partita difficile a Sassari dove abbiamo portato via un punto, si poteva fare qualcosina di meglio, si può fare di meglio sicuramente, però abbiamo dimostrato di saperci stare, di sapere agire, anche nonostante il pareggio loro, abbiamo cercato di andare alla ricerca di qualcosa di diverso, di mettere in difficoltà. Poi come tutte le squadre si può concedere qualcosa, però devo dire che queste due partite sicuramente sono importanti, quanto lo sono state le altre e quanto lo saranno nel processo del campionato. Sicuramente venire fuori da un 3-0, da una sconfitta di Terni, come l'abbiamo subita, non era semplice sicuramente andare a Sassari e fare la prestazione e soprattutto fare il risultato, sapendo che dall'altra parte avevamo una squadra importante, ben collaudata e quindi giocavano in casa. Volevamo fare bottino pieno, quindi non sono stato contento al di là del risultato del primo tempo per quello che abbiamo espresso, per quello che abbiamo prodotto, perché si poteva fare di meglio, con un po' più di tranquillità, però poi sono molto contento della reazione che i ragazzi hanno avuto. Questo sì, la voglia di andarla a ribaltare o perlomeno di andare alla conquista di qualcosa che era diverso dal pareggio, ma questo si era visto forse involontariamente anche a Terni, nel secondo tempo di Terni, dove col senno del poi sì è vero che la Ternana forse ha abbassato i ritmi, non lo so se poi è così, noi sicuramente ci abbiamo creduto fino alla fine, nonostante il 3-0, siamo andati a cercare di fare quello che volevamo fare come se il risultato fosse diverso, quindi questa è la mentalità che questa squadra deve avere e sicuramente ci darà poi nel prossimo campionato anche qualche soddisfazione. Mister, a proposito delle fatiche post-Sardegna e del torno in flasettimanale, metterà in campo la miglior formazione possibile anche in vista dell'incrocio futuro con una formazione che ha zero punti in classifica? Al di là di quelle che sarà la successiva partita di domenica, pensiamo a questa, perché poi quella che conta è sempre la più imminente, non possiamo guardare troppo a lungo, quindi dovremmo fare fronte sicuramente all'impegno infrasettimanale, come ho detto, a qualche acciacco, a qualche situazione, però chi va in campo al di là delle rotazioni che ci possono essere, ci saranno, a strada facendo, sicuramente sono giocatori che possano fare il loro. Io ho sempre detto che questa è una squadra dove titolari sostanzialmente ce ne sono, ma perché vanno in campo, perché il resto è una squadra che nei 25 di Rosa possono giocare tutti tranquillamente sin dall'inizio, è normale che le scelte poi vanno fatte in base a tante caratteristiche, a tanti ruoli, quindi però devo dire che chi andrà in campo sarà la formazione migliore per affrontare questa squadra, questo sicuramente. Ma il Ponte d'Era è una squadra consolidata, è vero che hanno cambiato qualcosa rispetto all'anno passato, dove hanno fatto un campionato importante anche loro, quindi è una squadra che ha un modo di pensare, che si è consolidata negli anni in categoria, quindi è una squadra che forse ha raccolto meno di quello che poteva raccogliere in queste partite, ma lo so, sicuramente vengono dalla sconfitta, subita a cinque minuti dalla fine e quindi è una squadra che va presa con le mole, è una squadra fisica, con alcune caratteristiche ben precise, e quindi sicuramente affrontiamo una squadra che sa quello che vuole, non è una squadra che è improvvisa, è una squadra che ha una mentalità ben precisa, al di là dell'allenatore che hanno cambiato, quindi ci aspetta una partita molto difficile, ma come tutte le altre, di partita in partita parliamo sempre di una partita difficile, ma la realtà è questa, vuoi per l'infrasettimanale, vuoi per la caratura della squadra, vuoi per tante situazioni, in questo girone, credo partite facili non ce ne siano, in questo momento abbiamo visto anche dei risultati, quindi sta a noi migliorare, mettere in campo quella determinazione, quella voglia di voler vincere la partita, di voler fare risultati, di voler migliorare, tante situazioni dove dobbiamo migliorare, e questo credo che sia l'aspetto dove vorrei vedere anche i miglioramenti. Mister, l'ultima per me è un piccolo scorcio di campionato, ovviamente siamo agli inizi, ma può dare già un giudizio non solo sul Pinetto, ma sul valore complessivo di un campionato, perché avete perso solo una gara a Termi che secondo me è una delle favorite, malgrado l'inizio un po' balbettante. Ma è presto, sei partite, questa sesta partita credo che sia molto prematuro, però ecco c'è molto equilibrio nel nostro girone, qualche squadra sta mantenendo le aspettative, qualche altra ancora in ritardo, quindi è ancora presto. Per quanto ci riguarda abbiamo grossi margini di miglioramento per quanto ci riguarda noi, sì è vero che abbiamo raccorto sei punti, una sola sconfitta, sintomo di solidità, però dobbiamo migliorare molto perché possiamo fare molto di più, questo è chiaro per poter andare a trovare quelle vittorie che poi fanno una differenza. Quindi dire ora quelle che sono le pretendenti o... Anche per addolcire un po' la sconfitta di Termi, io lo chiedevo per questo. Sì, sì, ma la soltanto... Rapportando la forza dell'avversario, ecco. Siamo consapevoli che la Termina, l'ho detto anche a fine partita, forse abbiamo incontrato una delle squadre che era lunga, secondo me saranno lì per giocarsi il campionato, problemi societari permettendo. Quindi questo è chiaro, noi siamo voluti stare in quel tipo di partita, abbiamo cercato di volerla fare, purtroppo non ci è andata bene in tante situazioni, in qualche dinamica, però devo dire che poi la squadra c'è sempre... Potevamo tranquillamente tirare il remi in barca, pensare a non prendere il quarto gol e cercare di imitare i danni, invece la squadra ha dimostrato di voler stare a giocare, a prescindere di andare alla ricerca e questo credo sia l'aspetto che mi conforta. Quindi, tornando alla domanda, credo che sia presto per dare un giudizio a questo campionato. Tante partite, l'Arezzo stesso che tre partite fa era da noi, sembrava che fosse una squadra in difficoltà, hanno fatto nove punti, quindi ora si trova nella classifica che conta, quindi è ancora presto per dare un giudizio. Grazie mister. Ancora non lo so, già la rifinitura di oggi, vediamo quelle che sono le condizioni, quelle che sono le situazioni, sicuramente qualche cambiamento lo faremo, come è successo anche sabato scorso, quindi vediamo dove, vediamo dove. Devo dire che sono molto contento di quelli che hanno, che sono partiti sabato scorso dall'inizio, quei cambi che abbiamo fatto, quindi qualcuno, qualcos'altro recupererà, vediamo, vediamo, qualche dubbio c'è ancora, come è giusto che sia, vediamo poi stasera a fine rifinitura.